Tu hai vinto due mondiali, il primo con Romario e Bebeto, e poi con Ronaldinho e Rivaldo, quello del 2002. Che ricordi hai, che differenze hai? Direi che il 94 è stato importantissimo, è stato come se fosse la mia università. Purtroppo non ho fatto neanche un minuto di partita, però negli allenamenti a vedere gli altri giocatori, vedere Romario e Bebeto come facevano le cose, come si allenavano, come si portavano fuori campo. Quello è stato troppo importante per me, perché loro due erano i due migliori attaccanti al mondo, allora erano dell'ispirazione per me. Loro mi hanno insegnato tanto, anche se è solo lì che io guardavo. Romario era più figlio di che con i giovani, con i giovani mi andava a prendere il caffè, prendere le sue scarpe. Nel 95 o, non so, nel 97 ero già pallone d'oro, non so, ero già un giocatore importante e siamo andati a Coppa America e mi fa da pomeriggio, guarda che è stasera usciamo, eravamo in ritiro con la nazionale. Non te l'ha chiesto, ti ha ordinato, te l'ha detto, si va. Mi ha detto, non ti preoccupare, tu vieni con me e poi ti spiego. Siamo andati dietro dell'albergo, c'è stato il muro contro, era un metro di distanza tra il muro e la parete dell'albergo. E allora lui con i piedi e con le spalle è andato su. Ho capito. Dell'altro fianco, aveva già una scala che prendeva la scala, metteva nell'altro muro e saltava l'altro muro. Aveva già un taxi davanti. Era organizato tutto. Aveva già una logistica pazzesca. Ho capito la scala per prendere l'oliva. Hai capito, buttava qua. Ho capito. Abbiamo fatto tardi, siamo tornati verso le cinque, non so, siamo usciti dopo cena. Ho fatto stesso tragetto a dormire mezz'ora, una ora che dopo doveva allenarsi. Poi arriva l'allenamento, tutto tranquillo, nessuno vede nulla. Però ero morto, ero morto. Non potevo allenarmi, mi sentivo strano. Poi ho deciso che guarda, scappare e ritiro non lo faccio mai più. Poi ho capito che poteva essere Romario a volermi fatigare per prendere il mio posto. A presto.